Il primo source affascina, il secondo... strega. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Che te ne pare? Il primo source affascina. Il secondo strega, magico potere di un liquore inimitabile che dà sempre una piacevole sensazione di calore. Strega, si gusta in ogni occasione. Strega, per sentirsi così piacevolmente forti, come un morbido incantesimo che affascina. Strega.